Ciao a tutti ragazzi, qui è FortuGamer che parla, benvenuti in un video su Fortnite Oggi ragazzi, video in controller, cam davvero molto figo Quindi guardatelo fino alla fine perché ce la siamo giocata davvero bene questa partita Rispetto comunque alle altre che ho giocato ormai nell'ultimo periodo, stava fa schifo questa Me l'ho ripreso un po', quindi guardate il video fino alla fine Iscrivetevi al canale se non siete già iscritti Poi se volete, seguitemi su Instagram, link in descrizione Basta cercare Instagram FortuGamer, mi trovate sicuramente Intanto io vi lascio il game Ok ragazzi, ci siamo, siamo a Palmetto Paradisiaco Per cambiare un po' zona rispetto a Pinnacoli Siamo in controller cam Quindi ragazzi, insomma, un paio di novità Tra l'altro hanno aggiunto anche il quad Quindi se riusciamo a trovarlo ragazzi, siamo proprio on the top Qua io non vedo personalmente nessuno A parte gente che è caduta qui vicino Però non credo, almeno per ora abbiano trovato armi Speriamo di no Noi intanto però con la massima attenzione Cerchiamo di evitare troppi contatti con dei nemici Almeno per ora Quindi sfondo un attimo qua perché Sotto effettivamente ci stanno Ci stanno un po' a massacrar Eh sì, vabbè C'è un tizio qui dentro ragazzi Quindi Ok, a posto Vivo questo Permesso? Un po' di panico eh, c'è Doppio nemico Devo tornare indietro Ok A posto Mo' c'è ancora un altro tizio in basso Non riesco a capire la sua posizione Tra l'altro ho sti cosi di gomma là Sti cosi che ballano mi distraggono tipo tantissimo Quindi scendo qua Credo di farcela senza subire danni Sì Allora, c'è un altro tizio là Però io ho pochi materiali Servono in realtà Calmi un secondo ragazzi La cosa sta per degenerare Andiamo Stava finendo male Ce la siamo giocata Al meglio delle mie capacità E abbiamo vinto Buono così Ricarichiamo un po' tutte le armi Perché credo che sia un po' tutto scarico Devo provare per la prima volta il quad Quindi Sono anche abbastanza emozionato ragazzi Vediamo un attimo Allora Sponiamo qui Infatti che sta tantissima roba in giro Non è uscita giustamente dalla gente che ci siamo fatti Di nulla Ben devito Guidiamolo Allora Potenziamento Preno Retromarcia Madonna sti cosi mi avranno fatto preoccupare tantissimo Se faccio Così potenziamento Figo Non c'è però la funzionalità Per permetterci di fare il Come si dice Il drift Come si può fare col kart Vabbè però sembra figo Allora Ce l'ho sparato Quindi aspettate un secondo Da dove Allora mi sembrava Ok lo vedo lo vedo Dalla zona di 2.40 Tra l'altro un tizio che Vabbè Lasciamo stare Spara però Non gli conviene Forse un tizio con il deltaplano Forse ho sentito un tizio con il deltaplano Cavolo Io sto dentro un camion Quasi quasi tornerei al nostro quad Il problema è che la safe è lontanissima Il quad in realtà Non è che ti dia sta grandissima protezione Ma che ce frega ragazzi Se qualcosa lo lasciamo Dai Però per ora Ah si può andare anche in 2 Figo Non l'avevo capito sta cosa Non so se si può sparare però In A2 Comunque vediamo ragazzi Intanto noi vediamo di Di utilizzare il quad Perché sembrava davvero molto figo Comunque va ricarica tipo Con questo sprint Ne vediamo Qui forse incontriamo qualcuno Nella zona di borgo Spero di si Vedo strutture Vedo anche una casa distrutta E c'è un tizio Si Aspettate Sta sul tetto Porca miseria Un fottutissimo Cecchino Come al solito Che non si sa fare I pattacci suoi Ok Ok Io ancora ho un cieco addosso Quindi Non mi devo stare fermo un secondo Devo cercare di muovermi In maniera poco prevedibile E fastidiosa Vabbè Mi servirebbero scudi Sta un tizio col kart Spero non si sia preso il mio Però ho i miei dubbi Credo proprio di no Il tizio col quad non lo vedo Quindi torno indietro e mi vado a fare i tizi utilizzando l'ombra Ma io se non mi faccio sgamare per ora Che stanno in due Io qua so come finisce la cosa Che sparano entrambi me Quindi aspettate un secondo Ho soppiato un po' di materiali Perché ne ho pochissimi Quindi aspettate un po' di materiali 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 Ho fatto la stupitaggine a questo tizio Vabbè io mi faccio direttamente il medikit A parte che me ne devo brandare Spero di trovare il mio quad Anche se non ricordo assolutamente dove l'ho lasciato Questa cosa è un bel problema In tutta sincerità Quad non ricordo dove ti ho lasciato Va bene Mi sa che siamo costretti a fuggire così A piedi va bene Con l'ombra ce la facciamo tranquillamente Pensavo di no Via via scendi Mamma mia ragazzi che brutta situazione Comunque ragazzi come stavo dicendo Fatemi sapere voi che presa utilizzate E poi magari condividete il video con i vostri amici E così anche loro potranno scrivere Che presa magari utilizzano loro Perché sono abbastanza interessato Riguardo questo argomento Quindi fatemi sapere Intanto qua c'ho tutto carico Sì ok Io qua devo stare attento Perché non riesco a uscire Uh no aspettate C'è qualcosa che voglio prendermi Ed è questo E intanto faccio così Perché tanto E poi c'è di precisione In questo caso non lo so utilizzare Fra 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 Perché si è andato addosso a quel tizio Fra 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 No fra fra No fra Dimmi che ce l'avevi tu qualcosa Oddio Ah ok ce l'aveva lui Mamma mia ragazzi mi è preso un panico Come poche volte l'ho avuto Ho detto oddio Chi mi sta sparando Pensavo non fosse lui Invece Fortunatamente era lui Ok Vediamo Sì c'è uno Stava uno pure nella casa O l'altro Cristo non sta nella casa Tutto è in gaffianco proprio Buono fra Come al solito Vai Stacce Grazie Non so se ha un fucile a pompa Quindi Cioè scusate Un fucile di precisione Quindi lascio stare Ah siamo uno contro uno Posso farmi 15 kill Vabbè ci sta ragazzi Ci sta Devo stare solo attento A non fare stronzate Perché Ora in uno Versus uno Devo Eh vabbè Devo giocarmela bene Devo sapere build fightare Ho trappole Quindi faccio Me l'equipaggio già Perché serviranno Sicuro Legno Ho tutto carico Questo no I materiali pure ce li ho Dai Potrei stare meglio Però insomma male Non posso dire manco Di star male Ok vediamo Lancia razzi Ottimo Faccio così E sono contentissimo Di ciò che abbiamo appena trovato Ok Lo vedo Sì lo vedo Costruisce Si alza Si si alza Facciamolo cadere Let's fucking Go babe Let's fucking go Bella così Mamma mia Che casino Bella così Non mi interessa Che non si riusciva a fare la cosa Vabbè Vinta ragazzi Vinta 15 kill Ci sta Ci sta la grande Quindi ragazzi Il video oggi si conclude qui Mi raccomando Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Altrimenti vi perderete I prossimi video di questo tipo E non credo Voi vogliate Poi se volete Seguitemi su Instagram Link in descrizione Basta cercare su Instagram Forto di gamer Mi trovate sicuramente E intanto noi ragazzi Becchiamo al prossimo video Ciao